Una lite all'apparenza come tante di quelle banali in strada per il mancato rispetto di una precedenza. Stavolta però non si è risolto il tutto con un immediato botte risposte via perché uno dei due automobilisti ci ha rimesso la vita, il tutto sotto gli occhi della piccola figlia di sette anni. La vicenda insensata e incresciosa si è consumata nel pomeriggio intorno alle 15 e 30 a Giulianova nella centrale via Orsini. La vittima Paolo Cialini, 47 anni, residente in città ma originario di Mosciano Sant'Angelo, stroncato da una coltellata all'addome. A sferrarla Dante Di Silvestre, 60 anni di Mosciano Sant'Angelo ma originario di Bellante. Da una prima ricostruzione sembra che a scatenare il tutto sia stato il mancato rispetto di una precedenza. Gli animi si scaldano subito e i due uomini scendono dalle rispettive macchine, una Fiat Punto Cialini, un Fiorino Di Silvestre. Ne nasce una colluttazione, prima le parole e poi lo scontro fisico con calci e pugni. Quando i due ritornano nei rispettivi mezzi sembra essere finita, perlomeno è quello che avrà pensato la vittima che risale sulla sua punto e riprende la guida. Di Silvestre però ha altre intenzioni, segue l'altra macchina fino ad un incrocio lungo via Orsini e quando questa è costretta allo stop l'aggressore scende dal suo furgone armato di coltello e sferra il fendente esiziale a Cialini. Anche egli sceso nuovamente in strada. La figlioletta assiste alla scena. Alcuni passanti avvertono i carabinieri della locale compagnia che pongono subito in stato di fermo per omicidio volontario di Silvestre. Inutili i soccorsi degli uomini del 118, per Cialini non c'è niente da fare. Sul posto accorrono anche il procuratore della Repubblica di Teramo Antonio Guerriero e il PM titolare dell'inchiesta Irene Scordamaglia. Sulla vicenda assurda anche le parole di cordoglio del sindaco Francesco Mastro Mauro. Sono sconvolto, mancano davvero le parole. esprimo la mia tristezza, il mio stupore agghiacciato per quanto avvenuto.